Ieri sera alvia ufficialmente la prima serata del festival di Sanremo che appunto andrà avanti fino a sabato sera. Grande successo per la serata con più del 54% di share e più di quasi 11 milioni di telespettatori. Sicuramente anche Biella ha seguito la Kermes giudicando ovviamente dai propri divani come giusto che sia tra look e canzoni in gara. Ieri sera Ornella Muti ha accompagnato Amadeus sul palco, questa sera invece Lorena Cesarini. Quindi l'appuntamento è per questa sera ovviamente su Rai 1 col festival.